Ciao a tutti, grazie per aver guardato il video che ti ho speso in grado di sabbraio Non ricordo se non la vedo, faccio un po' che ti so, faccio subito in grado Ok, faccio un po' che lo riesco a lavorare, non provo mai buono E poi vi faccio un po' che lo riesco E' anche 1200, nemmeno, milion in meraviglia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.